Un saluto particolare a Itinerari per Napoli, io non amo molto le applicazioni, però questa è furba, intelligente e utile, di conseguenza usatela perché andando in giro vi racconta dove siete, cosa fate, cosa è successo, come vi dovete comportare, dove dovete andare, è come avere una guida in tasca e sapere dove andare in una città che offre due milioni di cose da visitare e da vedere. Itinerari per Napoli, non dimenticatevelo. Un saluto a tutti i lettori di Itinerari della campagna che mi sembra un'applicazione e un'idea fortissima in maniera che almeno uno non soltanto rimane colpito da quello che vede per quanto è bello e interessante ma capisce anche che è ancora più interessante perché lo conosce.